La prima cosa sarebbe rendere dotti decisori politici sia nazionali che europei che il farmaco, il farmaco generico in particolare, non sono una merce come tutte le altre. Sono prodotti che servono alla salute delle persone, quindi hanno degli impatti sociali fortissimi e pensare di rimanere o avere scarsità di certi farmaci non è concepibile nella nostra società. Quindi la prima cosa sarebbe trasmettere questa consapevolezza. Dalla consapevolezza dovrebbero derivare poi dei provvedimenti che in qualche modo non vedono più il farmaco generico solo come uno strumento per abbassare i costi delle varie sanità pubbliche, cosa lecita peraltro, ma anche qualcosa che dia crescita a questo settore, che è un settore estremamente importante. Vi faccio un esempio concreto. Una delle cose fondamentali è dare anche una certa crescita tecnologica, quindi 5.0. Noi stiamo discutendo qui, ho il cappello di Confindustria in questo caso, con il Ministero cercando di chiarire che nell'industria farmaceutica e progetti, un poi in tutta l'industria, ma in particolare quella farmaceutica, si fanno almeno 5 anni. Cioè decido oggi di fare una plant farmaceutica, mi occorrono 5 anni. Fare degli incentivi che durino solo uno o due anni certamente non serve a questo settore.